Ciao ragazzi, sono il che è in vivo, da Occi Saro, c'è VIP Akia Ome no, ai o ad editare ai video paasario, dead quest buona visione questo anche sul canale di Red Wolf 835, il Cane Vivo, Rosaniec e Stefanik 45, prima che iniziamo con il video voglio dire una cosa, prima cosa non vi offendete, giustamente, questo video qua è stato difficile farlo, perché Red, il Cane Vivo, Stefanik e Rosaniec, ho pensato a loro prima che facciamo questo video, però ho detto io lo voglio fare, per esempio Rosaniec non ti offendere se ti mettono in una posizione più bassa, comunque non vado in simpatia, perché io vorrei pensare, eh, Rosario, Rosaniec in esse, no, non vado in simpatia, vado con i miei gusti, come fanno i video, come editolo e altre cose, alle persone che state guardate questo video, gli spettatori, dove offendete, giustamente, comunque penso che ho detto tutto, vabbè iniziamo con il video e andiamo avanti con il primo a votare a votare, lo metto in tier list, Stefanik 45, Stefanik bravo editare, vabbè questa cosa qua ce l'hanno tutte e quattro, meglio di me, comunque sono bravo editare, sono bravi a fare i video, anzi è bravo a fare i video, vabbè parliamo di Stefanik adesso, è bravo a fare i video, vabbè sicuramente lui migliorerà, perché è bravo a fare i youtuber, è bravo a editare, è bravo a fare i live, però Stefanik, voglio dire questa cosa, in questo video, fai più video, per favore, non è che, per esempio, il video di Sperank è uscito grazie a me, perché io ho detto, Stefanik, per favore, farlo anche tu, e lui ha detto, ok, facciamolo, per questo è uscito il video di Sperank sul suo canale, se no non usciva mai quel video, iscrivetevi al suo canale, mi raccomando, sei bravo a editare, bravo a youtube, è nato grazie a me, Stefanik, che ha detto, ah, Stefanik, perché vuoi anche tu il canale di youtube? Lui ha detto, buono, non lo so, poi l'ho imprevisto dopo qualche giorno, oppure nello stesso giorno che glielo ho detto, è uscito un suo video, a caso, per questo, andatevi a scrivere, che se lo merita, comunque andiamo, il prossimo, ad avvotare, che è, il prossimo, ad avvotare, che è, si chiama, Red, Wolf, 835, comunque lo metto in me, non ti offendere, mi raccomando, perché non voglio che, qualcuno di voi si offende, se lo metto, per questo, prima cosa, però, fare i video, per militare, vabbè, sono le cose, che hanno tutte e quattro, però, una cosa di migliora, fare i video, perché, non fare, troppo essere messi a caso, perché, per, per chi ti segue, può darti, che non capisce, oppure, dice, vabbè, sicuramente, qualcuno dirà, qualcosa, un po' come è sicuro, per questo, sicuramente, migliorerà, Red, come me, perché, addirittura, ai tempi, due anni fa, vi sto parlando, che, faccio il video, da telefono, a volte mi chiedevo, il telefono, devo riuscire a mantenerlo, vabbè, un casino, per questo, non andate a guardare i miei video, perché sono, proprio, cringe, per questo, non andate a guardare, mi raccomando, eh, sicuramente, migliorerà, devi iscriversi al suo canale, che deve arrivare a 150 iscritti, passiamo a, Rosaniec, Rosaniec, lo metto in, scherzato, non va a dire, vabbè, in, è bravo a fare i video, è nato anche lui, grazie a me, che ho detto, guarda, sai, come fai anche tu un video, di buccare il tube, per favore, sei bravo, è passato un anno, e dopo un anno, sta qui, su YouTube, eh, comunque, è bravo a, a fare i video, bravo a editare, poi, sicuramente, migliorerà, anche lui, poco m'è sicuro, vabbè, non dico poco m'è sicuro, eh sì, è sicurissimo tutti e quattro, anche il cane vivo, Stefaniec, e Red, comunque, stavo dicendo, eh, è un bravo youtuber, questo, se lo merita l'iscrizione anche lui, mi raccomando, deve iscriverlo anche al suo canale, eh, eh, penso che ho detto tutti, Rosaniec, è un grande, è il, è il corno del mio canale, ok, sembra la mascotte, però non è la mascotte, comunque, eh, mi piace fare i video insieme a lui, che mi diverto, mi piace fare i video insieme a lui, eh, basta, questo è bravo, andiamo alla fine, con il cane vivo, con il cane vivo, ok, lo metto, perché se lo merita veramente, se lo merita veramente lui, in S, se lo merita, perché, edite i video, sia sui, che di Rosaniec, eh, pensa al suo canale, i video, poi, è bravo, ok, per questo, l'ho messo in S, solo perché sta sempre, soprattutto, con Ben Rosaniec, possiamo dire che, non so come dirlo, la disposizione, tipo cose del genere, vorrei dire, è bravo, per questo, se lo merita la posizione S, se lo merita anche una bella iscrizione, mi raccomando, andate al suo canale, il cane vivo, fate iscrizione, perché è gratuito, comunque, perché voglio che arriva a 100 iscritti, questo, è il suo traguardo, ma io lo voglio, arriva a 100 iscritti, perché sono la merita veramente, comunque, penso che tutto, penso che il video può finire qua, questa qua è stata la top, la tier list, delle persone che collaborano, su YouTube, comunque, da me, da Red, Rosaliec, il cane vivo, e Stefaniec, che è tutto, vabbè, non ci sono, i video, però ci sono nella tier list, comunque, ci vediamo, ad un prossimo video, ciao, A presto,